Quest'ora ha confermato la volontà di aprire il posto fisso verso l'ospedale di Busto e l'ospedale di Gallarate. Aspettiamo l'ufficializzazione di questa ipotesi. Credo che sia in corso da parte anche della Questura l'acquisizione di nuovo personale assegnato dal Ministero e dopo di che ci vedremo per individuare la migliore collocazione all'interno dell'ospedale di queste postazioni fisse. In più si è rinnovato il ringraziamento nei confronti delle forze dell'ordine che mantengono sempre un'attenzione particolare alle nostre segnalazioni ma anche alla segnalazione degli operatori garantendo sempre un intervento pronto e immediato in caso di difficoltà. Quanto è sentito il problema da parte del personale? Beh, è sentito anche perché, da come voi stessi potete leggere da parte dei vostri colleghi, è un problema ormai a dimensione nazionale. C'è questa situazione che probabilmente anche, da alcuni punti di vista, il riflesso di questa società, insomma, no? Alla fine a volte vogliamo tutto, vogliamo tutto subito, i tempi sono stretti, siamo stressati e questo non fa che produrre situazioni di maggior conflitto che in realtà come quelle che possono essere gli ospedali non è il dubbio che portano dietro anche una grossa carica emotiva. Insomma, questo è un terreno su cui poi si somma magari a difficoltà di comunicazione e può far scottorire da chi ha difficoltà a gestire queste situazioni episodi di violenza non giustificabili, non ammissibili che devono essere data pronta risposta.